Tragedia della strada nelle prime ore di questa mattina a Fano. Gersi Ura, 21 anni, di origini albanesi, ma da tempo residente a Fano assieme alla famiglia di professione cameriere, ha perso la vita lungo la via Flaminia, nella frazione di Cucurano, poco dopo lo svincolo per Bellocchi. Erano da poco, passate le 6, quando il giovane, a bordo del suo scooter, stava rientrando a casa in via Torno, a Cucurano, quando, per cause ancora da accertare, ha urtato e strisciato per una decina di metri il guardrail sul lato destro della carreggiata, finendo nel fosso di scolo delle acque adiacente alla carreggiata che fiancheggia un muro di contenimento in cemento armato, morendo sul colpo. A nulla sono valsi i soccorsi del 118, arrivati sul posto che hanno tentato in vano di rianimarlo e non potendo far altro poi che constatarne il decesso. Alcuni testimoni oculari dell'incidente che stavano percorrendo la famiglia in quel momento hanno detto di averlo visto sbandare vistosamente poco prima dell'urto fatale contro il guardrail. Nella sera prima, il ventunenne, che lascia una compagna ed una figlia di appena due anni, aveva prestato servizio alla taverna dei pescatori sul portocanale di Fano, dove da alcuni anni gestiva la sala e dove lascia un vuoto incolmabile sia umanamente che professionalmente. Filippo Ravagli, il titolare del ristorante che lavorativamente lo definiva il suo delfino, lo ricorda come un cameriere preciso e professionale, innamorato del suo lavoro, sempre cordiale ed accogliente con la clientela che lo ricorda con grande affetto, per la sua grazia e gentilezza nel servire ai tavoli. Un ragazzo d'oro, considerato da chi lo conosceva molto bene, responsabile nonostante la sua giovane età. Sul posto della sciagura questa mattina, oltre che il 118, sono arrivati anche i familiari del giovane che sono stati accanto al corpo del ragazzo fino a quando non è stato portato via. Intervenute anche due pattuglie della polizia stradale, una di Fano e una proveniente da Pesaro per i rilievi di legge ed una pattuglia dei carabinieri per la gestione della viabilità. Grazie!